ciao ciao a tutti allora oggi registriamo tutorial per realizzare un ciondolo come questo ecco allora questo è un ciondolo molto semplice in cui ho incastonato con le 11.0 e le 15.0 un rivoli da 14 mm poi ho usato paisley super duo e perle da 6 mm ho attaccato un anellino un porta charm e una base per collana in questo caso in organza voi potete mettere quello che volete una catena una base del genere un cordino in caucciù un altro cordino cerato con tutto quello che volete allora partiamo con i materiali allora come vi dicevo incastoneremo un rivoli da 14 mm questo è un heliotrope in vetro poi lo incastoneremo con delle 11.0 queste sono snowflake sailor snowflake sono poi delle 15.0 non ho la colorazione perché sono state comprate in fiera in una bustina in cui non c'era indicato il colore ma è un rosa rosa antico poi delle paisley questo color turchese eccole qua delle super duo jet sono un nero normalissimo e delle perle da 6 mm queste sono della swarovski sono rosaline colorazione rosaline poi un ago e un filo un filo di nylon va bene io in questo caso sto usando il solo ecco qua allora vi una piccola anticipazione precisazione allora in questa incastonatura che avevo fatto avevo utilizzato sempre delle toe e mi erano servite 30 perline per il giro iniziale invece quando ho fatto le prove con queste sono sempre pur sempre delle toe ma non sol perché la misura sarà diversa non so cosa dirvi non so perché me ne sono servite 28 infatti in realtà io avevo già registrato il video avevo perlomeno cominciato a registrare il video ieri poi mi sono dovuta interrompere e comunque ne ho dovute utilizzare 28 perché le 30 che avevo usato in partenza erano troppe l'incastonatura mi ballava e quindi non stava bene insomma per cui ci sarà poi se voi utilizzate le perline le toe o 28 o 30 e poi ci saranno da ripartire gli spazi per andare a creare la simmetria adesso io vi faccio vedere come l'ho ripartito in questo caso poi vi nel momento in cui ci troviamo ad inserire le paisley vi dico come le ho ripartiti gli ho ripartito gli spazi invece in un giro da 30 ok allora partiamo quindi inserendo sul lago le nostre 28 o 30 a seconda appunto della vostra della vostra misura di perlina per quanto vi ripeto è sono sempre 11 0 sono sempre toe eppure ho notato questa differenza quindi nel lavoro che vi sto facendo io in questo momento ne ho inserite 28 poi lo chiudiamo a cerchio ripassiamo il il filo all'interno delle perline e nascondiamo la codina e poi ci ritroviamo qua intanto che infilo le perline ne approfitto per ringraziare tutti quelli che vedono i nostri video che ci commentano che mettono i pollici in su che si sono iscritti al canale sia di recente che in passato ovviamente grazie sempre a tutti e anche chi si iscriverà magari vedendo anche questo video e vi ricordo di commentare attivare la campanella e così non perderete i prossimi video adesso conto le perline poi le chiudo cerchio ci ritroviamo ok ed ecco qua il primo passaggio quindi la realizzazione del nostro cerchio adesso iniziamo l'incastonatura peyote per cui mettiamo sul lago una perlina 11 0 e uscendo state che giro ecco uscendo da questa 11 0 non faccio altro che saltare la prima perlina subito dopo ed infilarmi in quella successiva in questo modo è un incastonatura anche questa molto semplice e praticamente dovete fare una serie di giri sempre inserendo perline in questo sistema quindi saltandone una l'unico accorgimento è ovviamente che dovete fare una diminuzione un aumento di del numero di perline in base alla dimensione del vostro cabochon però sempre in numero pari perché altrimenti non funziona e praticamente man mano che inserite le perline vedete che si posizionano una in alto una in basso per cui adesso facciamo il primo giro e poi dopo ci ritroviamo ed ecco il primo giro terminato come vedete abbiamo una perlina alta una bassa poi una al centro un'altra basso ma al centro e così per tutto il giro dovete appunto sempre controllare di inserire nella posizione corretta la perlina e soprattutto questo tipo di incastonatura può essere fatta soltanto con perline di forma regolare quindi tutto uguali altrimenti si rischia di avere cioè sia un lavoro che è irregolare e non vengono rispettati gli spazi adesso si prosegue con un altro giro per cui sono entrata nella prima per linea che avevo inserito questo uscendo da qui non faccio altro che inserire un'altra 11 0 e infilarmi nella 11 0 che c'è subito dopo in questo modo e vado a riempire tutti i buchi andando a compiere quindi il secondo giro mi raccomando tenete ben tirato il filo ok proseguiamo così per tutto il giro e anche il secondo giro è completato vedete se tiriamo il filo inizia già ad incurvarsi la gabbietta vedete per cui proseguiamo quindi entriamo nella perlina che è la prima del secondo giro precedentemente inserita e continuiamo con l'inserimento di altre 11 0 quindi salto il buco lo riempio e dentro nella 11 0 successiva per chi non è esperta e vuole provare a cimentarsi in questo tipo di incastonatura che vi dico è comunque semplice è più partire prenderla mano capire come funziona potete provare per esercitarvi facendo il primo giro di un colore poi il secondo di un altro così vedete perfettamente come si vanno a posizionare le perline come volete io intanto proseguo ci vediamo alla fine del giro ed ecco che ho terminato anche il terzo giro adesso volendo potrei già inserire il mio rivoli a faccia in giù e proseguire vedete ci sta perfettamente adesso io tiro e voilà e posso proseguire con il quarto giro allo stesso modo quindi sempre inserendo una perlina nei fori ecco fatto anche il quarto giro se voi controllate abbiamo tutte file da tre perline nel verticale voi contate sono tutte da tre perline in questo modo vi rendete conto se avete fatto il giro completo ok adesso il nostro rivoli è fermato ben fissato perché abbiamo ottenuto ben tirato il filo proseguiamo l'incastonatura con le 15 0 ecco adesso io mi sono impirolata nel nel cavalletto appena riesco a sbrogliarmi inizierò con le 15 0 quindi non faccio altro che entrare con il filo sto uscendo da qui entro nella perlina successiva e faccio due giri con le 15 0 dopodiché salgo mi porto sul davanti e faccio la stessa cosa quindi anche qui due file di 15 0 ed ecco rivoli incastonato due file davanti e due file dietro adesso proseguiamo con la decorazione quindi cominciamo con le paisley allora adesso dobbiamo portarci in una fila qualsiasi nel verticale ma nella perlina centrale di questa fila allora adesso vi faccio vedere bene risaliamo in una qualsiasi delle file di 11 0 bianche però delle guardando la fila in verticale edo ti si vede nell'inquadratura nella verticale vedete contate una due tre uscite dalla centrale ok ok io per comodità ho girato il lavoro con i rivoli che mostra la faccia verso di me sto uscendo da questa perlina centrale vado a mettere sul lago questa sequenza una 11 0 scusate una 15 0 due paisley e un'altra 15 0 le paisley vanno girate in questo modo pancia pancia e un'altra 15 0 poi uscendo da questa perlina devo inserirmi nella 11 0 sempre della fila centrale contando 5 perline vuote quindi salto 5 perline allora sto uscendo da qui ok conto aspettate che voglio farvelo vedere bene una due tre quattro e nella quinta centrale mi inserisco ok ed ecco qua poi adesso edoardo sto registrando scusate ecco qua magari da qui si vede meglio se voi contate le perline bianche sotto le paisley ne vedete una due tre quattro nella quinta mi sono inserita adesso sto uscendo da questa mi inserisco anche nelle due successive quindi esco da qui mi inserisco in in questa aspettate scusa quindi mi inserisco in questa e in questa quindi in due perline così e così e poi ripeto la stessa sequenza di prima quindi una quindici due paisley pancia pancia e un'altra quindici ne conto cinque mi inserisco nella quinta ed ecco come deve risultare il lavoro per cui per ricapitolare abbiamo fatto una sequenza di una quindici zero due paisley e una quindici zero con in mezzo una due tre quattro ci siamo inserite nella quinta poi abbiamo saltato inserendoci senza mettere niente nel lago in una due tre perline da qui siamo usciti altra alternanza e ci siamo infilati nella quinta perlina poi ne abbiamo saltate tre poi ci siamo siamo usciti ne abbiamo contate cinque ci siamo inseriti nella quinta praticamente questa è stata la ripartizione degli spazi 5 perline sotto l'alternanza 3 vuote 5 sotto 3 vuote diverso invece è stato quando ho ripartito gli spazi in questo ciondolo dove il giro centra il giro iniziale per l'incastonatura è stato come vi dicevo all'inizio da 30 11 0 per cui adesso vi faccio un po' vedere se la luce mi aiuta allora una due tre quattro cinque mi sono inserita nella sesta ne ho sempre saltate tre però sotto l'alternanza 15 0 paisley paisley 15 0 mi inserivo nella sesta ne saltavo tre poi entravo ne saltavo 5 mi inserivo nella sesta questa è la ripartizione diversa degli spazi ok adesso era giusto per farvi capire spero di essere stata chiara se avete bisogno scrivetemi adesso mi sono portata avanti nelle tre perline vuote dopo l'ultimo inserimento adesso dobbiamo andare a creare la decorazione tra le paisley e poi con le super duo per cui adesso entriamo nella 15 0 nella paisley in tutte e due le paisley in realtà perché in questo modo ci portiamo anche un pochino avanti e rinforziamo poi entrate nella seconda paisley ma non nella 15 0 per cui adesso noi andremo a lavorare da paisley a paisley quindi uscendo dalla paisley vado a mettere sul lago una 15 0 una perla da 6 mm e un'altra 15 0 me le avvicino così non faccio saltare i vassoietti come nell'ultimo tutorial ecco qua questa è la mia alternanza 15 0 perla da 6 15 0 e vado ad inserirmi nella paisley successiva quindi esco dalla paisley entra nella paisley non è che faccia tanto bene alla perline saltare in questo modo sapete che cosa facciamo no una modifica in corso d'opera con la ripartizione degli spazi diversa lo cambiamo per cui mettiamo soltanto paisley perla da 6 paisley niente 15 0 e mezzo modifica in corso d'opera questo è bello della della variazione poi adesso entriamo nella paisley successiva usciamo dalla paisley senza entrare nella 15 0 inseriamo sul lago un'altra perla da 6 e poi entriamo nella paisley facciamo tutto il giro in questo modo quindi paisley perla paisley così ok facciamo tutto il giro in realtà adesso è un po come se lo facessimo in diretta perché potrebbe non starci qualcosa rispetto al sondolo originario e quindi come se fosse il bello della diretta allora adesso abbiamo completato il giro sono entrata nella ripassata nelle ultime due paisley adesso dobbiamo andare a fare la decorazione in mezzo le paisley quindi saliamo nel foro alto che prendiamo le super duo vediamo qui quante ce ne stanno e adesso mi tocca dire così vediamo vediamo come va allora direi 3 super duo mi raccomando controllate sempre che il foro l'altro foro delle perline a due fori appunto sia libero perché altrimenti se non controllate rischiate di avere una perlina chiusa e non ve ne accorgete e magari vi tocca anche di fare il lavoro quindi 3 super duo e ci inseriamo nel foro alto della paisley successiva adesso qua io ne avevo messe due di super duo per poi entrare nella perla vediamo se ci stiamo altrimenti lo modifichiamo quindi aspettate un attimo voi inserire guardate se ci stiamo non lo so io proverei con una proviamo con una una togliamo quindi le tre di prima le lasciamo invece qui ne mettiamo una sola un tutorial alternativo è stavolta ragazze prendetelo così ok perfetto mettiamo un'altra super duo e ci andiamo a infilare nel foro alto nell'altra paisley ecco qua poi quasi pettineranno non è un problema adesso qui mettiamo altre 3 super duo e poi possiamo proseguire possiamo proseguire con questa sequenza quindi di 3 super duo tra le due paisley una paisley e perla e un'altra super duo tra perle paisley e lo facciamo per tutto il giro e abbiamo fatto tutto il giro adesso mi sono portata ad uscire da una paisley entro nel foro alto della super duo e proseguiamo in giro facendo un'altra decorazione quindi tra due super duo vado a mettere un'altra super duo quindi una la metto qui e una la mettiamo qua in questo modo sono entrata dentro troppe cose però ecco perfetto adesso stiamo uscendo da qua ok mi sono portata leggermente avanti per fare una prova allora stavo uscendo da questa super duo ho inserito 3 11 0 e sono entrata nella super duo successiva poi sopra la perla ho inserito 4 11 0 e sono entrata nella super duo ho fatto la stessa cosa che ho fatto dall'altra parte per cui ho messo 3 11 0 sopra all'altra paisley adesso vado a ripetere l'altra decorazione per cui vado a mettere tra le due super duo un'altra super duo ne prendo un'altra e la vado a inserire di qua tra le altre super duo ed ecco qua e ho creato anche quest'altro angolo adesso vado a far altro che ripetere quindi inserirò 3 11 0 tra una super 2 l'altra 4 11 0 sopra la perla e 3 11 0 tra una pesley tra una super 2 l'altra sopra la pesley e ripeto questa alternanza fino a completamento del giro ed ecco il giro completato ma sapete che mi piace da matti fatto così è venuto leggermente diverso non è ancora finito è però guardate la differenza è venuto leggermente diverso un po più regolare questo qui mi piace è proprio bello mi piace mi piace spero che piaccia anche a voi allora adesso proseguiamo dobbiamo fare non è rimasto molto e dobbiamo praticamente fare le puntine nei quattro angoli e poi rifinire con le 15 0 per cui adesso allora abbiamo terminato il nostro giro se riesco a prendere sul lago ok dunque sono entrata in questa super duo adesso risalgo in questa qui e vado a mettere un'altra super duo qua in mezzo qua così molto semplicemente adesso potremmo anche già fare intanto che siamo qui la parte di rifiniti rifinitura con le 15 0 aspettate che provo a vedere qua nell'altro come avevo fatto ecco sì sì funziona allora abbiamo messo la super duo qua in mezzo e sono entrata quindi nella super duo successiva ho inserito 3 15 0 e sono entrata nella nella fila qua delle 11 0 a questo punto qua possiamo decidere se lasciarlo così liscio se prepararci un'asolina per attaccare una goccia perché volendo possiamo anche impreziosirlo con una goccia con un pompon con quello che vogliamo io lo lascerò così solo nell'ultimo lato poi mi che arriverò a fare a decorare farò l'asolina per mettere l'anellino per cui io adesso proseguo così poi qua ovviamente ci torneremo e la completeremo però intanto abbiamo fatto questa prima parte adesso proseguiamo senza mettere dentro al sul lago niente andiamo avanti entriamo nelle perline entriamo anche nella super duo e in tutte e tre queste 15 0 poi queste 11 0 poi andiamo a prendere sul lago 3 15 0 1 2 aspettate che me lo avvicino 2 3 quindi 3 15 0 vado ad inserirmi nel foro alto della super duo così prendo un'altra super duo e vado a farne la puntina prendiamo altre 3 15 0 il giro comunque lo dovremo rifare perché comunque la decorazione con le 15 0 intorno alla punta adesso non riusciamo a farla se avete visto è passata una 15 0 eccola qua saltano come i fagiolini dicevo non riusciamo adesso a fare in simultanea la punta e cioè diventa un pasticcio per cui adesso mettiamo dentro 3 15 0 ci inseriamo e poi dopo torneremo anche perché comunque facendo un ulteriore giro gli diamo un po più di consistenza per cui passiamo oltre arriviamo fino all'ultima 11 0 bianca prima delle super duo e andiamo a metterle sull'ago altre 3 1 2 e 3 entriamo nella super duo e poi possiamo continuare a fare questa questo inserimento fino al completamento del giro ed ecco che ho completato il giro adesso dobbiamo andare a fare le ultime decorazioni nelle quattro punte sempre con le 15 0 e l'asolina per l'anellino e dall'altra parte se avete voglia se volete ne potete fare un'altra per mettere appunto un charm o un pompon o una piuma o una pallina di stoffa quello che volete una goccia tutto quello che volete io non metterò niente allora adesso salgo nella super duo metterò sul lago 3 15 0 esco da un lato e rientro dall'altro lato nella stessa super duo in modo da fargli la punta ok poi adesso vediamo quante ce ne stanno direi secondo me tre proviamo e 3 e ci infiliamo nelle 15 0 quindi 3 15 0 vediamo se ce ne stava anche una quarta no perché poi quando si tira su no ok va benissimo così 3 15 0 adesso non facciamo altro che proseguire quindi infiliamo ci in tutta la lunghezza fino a raggiungere la prossima punta così ci infiliamo anche le 11 0 nell'altra super duo nelle 15 0 anche se riuscite in un colpo solo fate anche nelle 15 0 ok adesso mettiamo mi piace proprio proprio bello è lo dico da sola 3 15 0 1 2 e 3 sto anche rimanendo senza filo non so se ce la farò mi inserisco nella punta della 15 della super duo ok poi prendo altre 3 15 0 per farne la punta proprio eccole qua entro da una parte esco dall'altra della stessa super duo e poi prendo altre 3 15 0 per inserirmi nelle 15 0 che avevo già posizionato prima e una 3 eccola qui ed ecco come viene la punta ok quindi ripetiamo questo per tutto il giro ricordatevi che avevamo lasciato un lato da terminare nella prima puntina che abbiamo fatto per cui fate tutto il giro e poi dopo faremo anche l'asolina ecco qua ovviamente ho dovuto cambiare il filo perché non ci stavo però ne ho preso uno corto e per me è venuto bellissimo mi piace proprio da matti allora io come vi dicevo come ho fatto nell'altro l'ho pensato con un'asolina qua su questo lato nulla toglie che in realtà lo si può anche appendere così potrebbe anche essere un orecchino messo così in verticale perché no messo qui magari gli si fa un'asolina qui lo si appende in questo senso potrebbe essere tranquillamente un orecchino molto carino ok adesso allora ho terminato tutte le punte mi è venuta anche l'idea che volendo si potrebbero fare dei piccoli picco anche sopra le super duo cioè sono proprio tutte cose che mi vengono in mente così adesso vabbè fate voi decidete voi come farlo ecco come personalizzarlo poi magari mi fate vedere fate un video creazioni mi scrivete così insomma vedete voi adesso facciamo l'ultima cosina l'ultimo passaggio che è l'asolina qua sopra io farei un'asolina a punta in cui andare a mettere poi il mio anellino allora nella precedente versione avevo fatto un'asolina da 7 direi quindi vado a prendere le mie 11 0 snow flakes 3 4 5 6 e 7 le mie 7 11 0 e vado ad inserirmi nell'altra 11 0 subito dopo la super 2 ed ecco la mia solina la posso fare anche più grande per farla più appuntita come volete voi ecco magari anche più grande sta meglio poi la rinforziamo e andiamo a tagliare il filo ed eccolo qua finalmente finito ho fatto l'asolina ho aggiunto due perline l'ho fatta da 9 mi piaceva di più un po più alta non troppo schiacciata poi l'ho rinforzata ho fatto tre passaggi mi sono spostato fatto nodino e sono andata un pochino avanti per nascondere la corina mi piace proprio tanto il risultato proprio bello sono soddisfatta è venuto diverso abbiamo fatto delle modifiche in corso d'opera però è venuto proprio bello guardate ecco qua a fianco cosa leggermente più piccolino di poco proprio di poco nel proprio bello però mi piace fatemi fatemi sapere se piace anche a voi se lo volete riprodurre insomma fatemi vedere qual è la vostra versione ci vediamo allora io sto cercando di mantenere una certa cadenza nella pubblicazione dei video cioè registro nel fine settimana perché lavorando resta la settimana non riesco a registrare prima per cui registro il sabato la domenica e il venerdì sera tra venerdì sera e sabato mattina cerco di pubblicare per cui questo video che sto registrando adesso che domenica pomeriggio lo vedrete venerdì sera o sabato mattina insomma a seconda di internet quanto tempo mi ci mette a far caricare il tutorial comunque sto cercando appunto di mantenere questa cadenza pubblicare un video a settimana insomma spero che appunto continuate a seguirmi vi iscrivetevi magari al canale se ancora non siete iscritti attivate la campanella così appunto verrete avvisati dei prossimi video e commentate il video se vi è piaciuto mettete un pollice in su a presto ciao